Il primo esperimento è il silenzio. Il primo esperimento in campo religioso deve cominciare dal silenzio. La maggioranza degli esseri umani non trova mai il tempo per stare in silenzio o per meditare. Io rimango ore e ore nel silenzio interiore. Quando mi trovo in compagnia provo gioia immensa. Sto con tutti e con tutto il cuore, ma quando sono lontano dalla gente rimango completamente solo nella gioia suprema della vita, l'abettitudine di Dio. Dovunque io sia la gioia di via non mi lascia mai. Perché non provare a stare in silenzio così da poter vivere in questo stesso modo? La maggior parte di voi non riesce a stare seduti immobili neanche per dieci minuti senza che i pensieri volino in tutte le direzioni. Non avete imparato a vivere in pace nella vostra dimora interiore perché continuate a inseguire nervosamente i vostri pensieri. Il mio maestro Sirius Kessar diceva, l'uomo ha chiuso a chiave la miniera della felicità e corre dappertutto, elemosinando proprio la felicità, come sciocco perché possiede l'intera riserva della gioia dentro di sé. Sin nell'infanzia ho cercato Dio e la comunione con lui mi ha dato una felicità che la realizzazione dei desideri materiali non avrebbe mai potuto darmi. Non avete niente se non avete Dio. Avete tutto se avete Dio perché egli è il Signore dell'universo. Se con la religione non avete ottenuto nessun risultato provate con la meditazione. Convincete o Dio uscire dal suo silenzio. Dovete insistere. Signore parlami. Se farete uno sforzo supremo nel silenzio della notte e la mattina presto dopo qualche tempo vedete un raggio della luce di Dio o percepirete un fremito della sua gioia nella vostra coscienza. Fare esperimenti per conoscere Dio nella meditazione nel silenzio produce risultati più autentici e più straordinari. Un tempo gli scienziati pensavano che l'acqua fosse un elemento unico, ma in seguito è stato sperimentalmente dimostrato che due elementi invisibili, l'idrogeno e l'ossigeno, si uniscono in una precisa combinazione per formare l'acqua. Allo stesso modo effettuando esperimenti in campo religioso si scoprono soppredenti verità spirituali. Quando meditate tranquillamente la vostra mente completamente interiorizzata avrete la prova dell'esistenza di Dio e scoprirete la vostra vera natura. Sperimentate le leggi religiose, è meraviglioso perché il risultato non si ottiene fuori di voi ma proprio dentro di di voi.